Uno spettacolo quasi da scenografia di film fantasy, quello che si è presentato agli occhi di chi si è trovato nelle vicinanze del fiume Naro, nell'Agrigentino. Il corso d'acqua si è infatti completamente tinto di nero. Nessuna magia dietro, naturalmente. A causare tutto questo sono stati gli scarti dei procedimenti di molitura, cioè la macinazione delle olive eseguita nei numerosi frantoi che sorgono nell'Agrigentino, in particolare nelle zone di Canicattì, Naro, Camastra e Favara. A segnalare l'accaduto è stata l'associazione Mare Amico, i cui componenti hanno sottolineato che le acque di vegetazione sono 200 volte più inquinanti delle fogne, poiché sottraendo l'ossigeno alle acque provocano la morte di tutte le specie viventi nei vari luoghi. E appunto la presenza di numerosi frantoi lungo il tratto in cui scorre il fiume Naro acuisce il problema e i rischi di inquinamento.